Ciao, sono Fabio della Garoni Immobiliare e oggi vi presento una proposta unica in centro a Faenza a soli 300 metri dal Duomo. Siamo in Via Naviglio, quello che vedete alle mie spalle è Palazzo Ferniani, che dietro la monumentale facciata nasconde una sorpresa. Seguitemi! Eccoci, ci troviamo nell'Androne, dove una volta passavano i cavalieri e vedete che cosa si nasconde qua dietro? Una bella corte, insospettabile fino a pochi secondi fa. Dalla corte comune del palazzo accediamo ad un'area privata, un giardino recintato di oltre 100 metri quadrati. Dal giardino si passa poi all'interno dell'abitazione, che è indipendente terra-cielo. L'ingresso dell'abitazione è direttamente sul salotto. La zona pranzo invece è completamente distaccata ed è formata da una cucina e un tinello. L'abitazione è collegata direttamente anche al garage e ovviamente al piano terra è presente anche un bagno finestrato, oltre a una zona ripostiglio-lavanderia. Al primo piano invece c'è la zona notte, che è caratterizzata da tre camere da letto, di cui due matrimoniali e due bagni. La camera padronale infatti ha il bagno interno e soprattutto un terrazzo che è difficilissimo da trovare in centro storico e che è molto abitabile. La camera padronale infatti ha il bagno interno. Abbiamo dimenticato un particolare non poco importante, perché oltre al garage, al piano terra, abbiamo anche un posto auto di proprietà. Cosa dire? Non è mai stato più facile amare il centro storico come in una soluzione di questo genere, una palazzina terra-cielo, in una corte protetta di un palazzo storico, con due posti auto esclusivi, un terrazzo e un giardino privato. Se questo video ti ha incuriosito, non lasciarti scappare questa opportunità, è fissa una visita. Ti aspettiamo per accompagnarti.